Invitiamo tutta la cittadinanza e i soci dell'Associazione Vogherae il prossimo 2 luglio alle ore 18 per l'inaugurazione del giardino dell'Associazione. Il giardino, che è particolarmente bello poiché ha un porticato del Settecento, ci è sembrato un luogo ameno e molto accogliente per nel periodo estivo proporre delle attività culturali. Quindi noi il 2 luglio alle ore 18 faremo l'inaugurazione di questo spazio che peraltro ha una storia artistica molto interessante di cui se ne parlerà la sera dell'inaugurazione. La parte musicale sarà sviluppata dal nostro socio Giorgio Macellari e quindi penso che possa essere per la città un momento diverso dalla solita attività culturale. Avere uno spazio permanente in città dove poter ascoltare poesie, ascoltare musica, rappresentare delle opere teatrali in un programma che verrà a breve presentato. L'indirizzo è via Felice Cavallotti 16, esattamente dove si trova la sede dell'Associazione e quindi un luogo che è centrale alla città ed è facile da raggiungere.